Il comitato per la salvaguardia del liceo Nolfi ritorna all'attacco nei confronti della provincia in merito alla situazione dello stabile Carducci, dopo le due possibili soluzioni annunciate nei giorni scorsi dal dirigente del servizio di edilizia scolastica Maurizio Bartoli, che ha fatto presente due soluzioni tecniche, una a breve termine che riguarderebbe la messa a disposizione di Aule in altri plessi scolastici di Fano che accoglierebbero i ragazzi del Nolfi in vista della riapertura delle scuole a settembre, mentre l'altra soluzione a medio termine da attuare nel settembre 2021 riguarda la disposizione dell'intero istituto Battisti e gli studenti del Nolfi, il comitato lamenta la mancata risposta delle istituzioni in merito alle perizie statiche e sismiche effettuate nel luglio 2019 sullo stabile, dove non erano emersi elementi di elevata criticità del Carducci per procedere alla demolizione e ricostruzione dell'edificio. Il comitato chiede per quale motivo la provincia si rifiuta di procedere con ulteriori accertamenti, ovvero prove di carico che dimostrerebbero in modo definitivo il reale stato della struttura. La perizia, a detta degli esperti che l'hanno letta, è incomplita, ha analizzato soltanto alcuni elementi, alcuni pilastri presi a campione, in numero assolutamente ridotto rispetto alle dimensioni dell'edificio, ma soprattutto la perizia si conclude con una frase molto importante che dice che non emergono elementi di criticità tali da far pensare ad un crollo imminente. Invece la provincia cosa ha fatto? Ci ha fatto credere attraverso la stampa che l'edificio stava per collassare, stava per essere in qualche modo, aveva una criticità molto elevata e non era vero. Ora si sta parlando quindi della demolizione e ricostruzione senza andare a verificare se di fatto sia necessaria. Servirebbero circa 3 milioni, è stata fatta questa previsione a spanne di spesa, e circa un anno e mezzo di lavoro. Per la ricostruzione servirebbero dai 7 ai 10 milioni e minimo, sapendo poi come vanno questo genere di cose, minimo 5 anni. Quindi se è possibile pensare che ristrutturare si possa, allora è ragionevole andare verso quella direzione. Seconda domanda che abbiamo fatto alla provincia, perché in questi mesi da dicembre si sta dicendo che bisogna fare intanto un progetto per partecipare ai bandi e da dicembre ancora non si è fatto neanche mezza riga di progetto. Questa è una domanda che abbiamo posto e non abbiamo avuto risposta. La terza domanda è perché se si fanno domande alla provincia, invece di rispondere il massimo organo politico che è il presidente, vengono a risponderci dei tecnici, dei tecnici dipendenti degli uffici. Noi abbiamo bisogno di risposte politiche, abbiamo bisogno di risposte in merito alle questioni che poniamo, non risposte tecniche. Quindi dov'è il presidente della provincia?